Ciao a tutti voi. Cari spettatori del nostro canale YouTube. Oggi abbiamo un argomento molto intrigante da discutere. La recente rottura dell'amicizia tra Diane Emello e Giulia Salemi. Vogliamo approfondire questa situazione e scoprire cosa ha portato a questa frattura tra due amiche famose. Come avrete notato, le due ex concorrenti del grande fratello VIP sembrano non essere più in buoni rapporti. Diane Emello ha condiviso le sue opinioni e i motivi che hanno portato a questa rottura in una recente intervista. Mentre in passato sembravano inseparabili, qualcosa è cambiato. E vogliamo capire cosa è successo. In questo modo, potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie in retroscena del mondo dello spettacolo e dei personaggi famosi. Ora, tornando a Diane e Giulia. La situazione sembra essersi surriscaldata quando Diane ha smesso di seguire Giulia sui social media. Questo ha attirato l'attenzione dei fan. E le tensioni sono emerse poco dopo. Diane ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Giulia. Che sembra aver danneggiato la loro amicizia in modo irreparabile. Diane ha condiviso alcune informazioni sul retroscena della vita di Giulia. Rivelando aspetti che forse molti di noi non conoscevano. C'è chi pensa che Giulia non abbia dato a Diane l'attenzione e il supporto che ci si aspetta da un'amicizia. Inoltre, Diane ha parlato del suo attuale rapporto con Stefano Sala, il padre di sua figlia, con parole molto positive. Hanno una custodia congiunta e una relazione matura, soprattutto per il bene della loro amata figlia, Sofia. Infine, Diane ha rivelato che, nonostante gli anni trascorsi, c'è stata solo una persona che le ha fatto provare qualcosa di simile all'amore. E questa persona è Carlo Gussalli Beretta. Attuale fidanzato di Giulia Delellis. Per restare aggiornati su questa storia e su altre notizie del mondo dello spettacolo, iscrivetevi al nostro canale YouTube e premete la campanella delle notifiche. Vi terremo sempre informati. Grazie per essere con noi oggi.